Una serata ricca di emozioni. In vista della Pasqua abbiamo visto una versione molto originale dello Stabat Mater. La drammatizzazione di Maria Grazia Serra è stata un parallelo fra la sofferenza di Maria per il suo Gesù e una madre tarantina che vede il suo figlio autistico soffrire forze per causa del posto in cui è nato. Questo forse è il quesito e l'angoscia che ci lascia questo spettacolo che comunque ha regalato delle belle emozioni. È stato veramente un onore e un piacere esordire così di fronte alla cittadinanza che ci ha accolto, come sempre devo dire negli ultimi mesi, con un affetto, una stima una speranza credo nei confronti dei nostri studi, della nostra divulgazione e delle scelte che ne possano conseguire. Io ricordo però a tutti che spesso sono le nostre scelte, non quelle degli altri, che condizionano la migliore salute dell'ambiente e la nostra. L'ISDE, Associazione dei Medici per l'Ambiente, ha costituito a Massafra la sezione più numerosa d'Italia. Questo è l'indice della grossa sensibilità verso i problemi ambientali e i problemi di salute adesso correlati che a Massafra ci sono e torneremo a parlare questa volta su tematiche strettamente tecniche, scientifiche. Parleremo dell'alimentazione, dei suoi rapporti col cancro, lo faremo con degli ospiti di altissimo livello in collaborazione con l'AIRC l'8 aprile, sempre qui al Teatro Spadaro che si conferma ancora una volta il centro della vita culturale tarantina. Parleremo insieme a Michele Mirabella, il presidente dell'AIRC Puglia e noto presentatore televisivo, con il professor Antonio Moschetta dell'Università di Bari, ricercatore AIRC e infine il nostro Ferdinando Laghi, il nostro perché è già stato a Massafra, è vicepresidente di ISDE Italia ed è sicuramente stato apprezzato dai massafresi e l'8 aprile avremo modo di parlare di nuovo con lui, parleremo di cancro, di alimentazione, di catena alimentare e di inquinamento, quindi tutti argomenti che portano nella concretezza la nostra divulgazione, i nostri studi scientifici per parlare di salute e ambiente. E poi ancora il 23 aprile ci teniamo molto a che i massafresi si muovano meglio, in maniera più salutare. Le principali cause di mortalità nel mondo occidentale sono la sedentarietà, fra le altre, l'inquinamento atmosferico, da motoveicoli e da autovetture, quindi vogliamo proporre il nostro modello di mobilità sostenibile ai massafresi in occasione della Run for Life, una passeggiata, corsa per la sensibilizzazione dei cancri della sfira femminile. E quindi uniremo queste forze con i service massafresi e cercheremo di parlare di salute a 360 gradi, partendo dalla prevenzione e partendo dal concetto di benessere.